E' il professore economista Stefano Zamagna a delineare quelle che è le linee guida per il futuro delle associazioni di categoria qui alla Borsa Merci in un convegno organizzato da Confartigianato. Ma con Zamagna abbiamo subito iniziato a parlare di un tema a lui molto caro come l'economia incivile. L'economia diventa incivile nel momento in cui anziché includere nell'attività e nel processo produttivo tutti, ognuno a seconda delle proprie possibilità e capacità, tende ad escludere. Oggi l'economia è diventata incivile in una maniera di cui ancora non abbiamo contezza. Qual è il senso di questo, il segnale? L'emergenza di una nuova categoria sociale che è quella appunto dei surplus people, dicono gli inglesi, cioè delle persone in eccesso, quelli che Papa Bergoglio chiama gli scarti umani. Sono quelle persone che non avendo determinate qualità vengono letteralmente scartate, nessuno li vuole. E quindi si mantengono in vita grazie all'assistenza, un po' alla filantropia, un po' alla carità genericamente intesa e così via. Ebbene, quando un'economia arriva a questi livelli diventa incivile, cioè non è più civile, perché l'aggettivo civile rinvia al sostantivo civitas. La civitas è la città, che sarebbe come dire, nelle città medievali, allora avveniva proprio così, qualcuno era cacciato fuori delle mura ed è abbandonato al proprio destino. Ora, questa situazione provoca disagi, a dir poco, indecente. Non è possibile continuare. Ecco perché da più parti si sta cercando di capire cosa determina il fenomeno e soprattutto come porre il rimedio adesso. Veniamo ad Arezzo. Che fotografia ci dà della nostra provincia? No, la vostra è una provincia, come dire, di intransizione, perché non è una grande provincia, però al tempo stesso non è neanche una provincia di periferia che non possa avere delle ambizioni. Io sono certo che una realtà come quella aretina ha un potenziale che tuttora non riesce a sfruttare. A che cosa è dovuto? Alla priorità dei fattori. In parte l'ho detto, in altra parte perché occorre puntare di più su una leadership locale che fino ad ora è venuta e mancata. Cioè dire, gli aretini devono pensare che non possono lasciarsi governare da altri che vengono da fuori del proprio territorio. Questo è il punto. E negli ultimi decenni purtroppo è stato così. C'è stata una sorta di sottovalutazione, di autoflagellazione che ha fatto sì che l'aretino medio pensasse che le castagne dal fuoco dovesse toglierlo qualcuno da fuori che arrivava qui, eccetera. Bisogna insistere perché questa falsa opinione venga a scomparire.